Siamo qui alla scuola dello sport dove è iniziato il corso nazionale per esperti di preparazione fisica. Io ho iniziato questo percorso per quando deciderò di concludere la mia attività agonistica di judoka che per ora però continuo e spero di inseguire nuovi obiettivi puntando sicuramente alla prossima Olimpiade di Tokyo 2020 e visto anche i risultati dello scorso anno spero di portare l'Italia ancora una volta e anche magari di più sul gradino più alto del podio.